... Avvicinatevi qui alla console, un momento di attenzione, prego! Un brindisi per il nostro campione Stefano Tempesti, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Londra, voltiere della Nazionale Italiana di Palla Nord, ha parato l'impossibile, è un grande campione! Un brindisi per il nostro campione, un momento di attenzione, prego! Un brindisi per il nostro campione, un momento di attenzione, prego! Un brindisi per il nostro campione, prego! Grazie a tutti.